Allora, Don Piero, tu hai già avuto modo di vivere per alcuni anni come parroco, un'esperienza con le suore dello Spirito Santo. Com'è stata questa esperienza? Com'è vissuto il servizio in parrocchia insieme a loro? Ma cosa vi aspettate di costruire insieme in questa nuova realtà del santuario e del Sacro Cuore? Le suore a Urbani sono arrivate nel 2014, quindi sono ormai otto anni. Io con loro ne ho vissuti sette e ho desiderato averle perché la presenza delle suore in una parrocchia è indispensabile. per tanti aspetti, sia per la collaborazione nell'attività pastorale, sia anche per un senso di un tatto, una delicatezza che le suore potevano e possono sempre assicurare. In particolare, le suore dello Spirito Santo sanno curare bene l'ambiente liturgico e la liturgia stessa. E questo è stato qualcosa che ci ha fatto valorizzare molto di più le celebrazioni liturgiche come decoro, poi come catechismo e anche come contatto con i malati. Quindi una presenza importante. E quando l'Arcivescovo mi ha chiesto di venire in questa nuova parrocchia, ho chiesto di poter avere ugualmente una comunità di suore, perché l'esperienza era stata valida e importante e avrei voluto continuarla, ripeterla e continuarla anche in questo santuario parrocchia del Sacro Cuore. E la Providenza ha voluto che nel giro di pochissimo questa speranza si concretizzasse. E le suore sono arrivate, una comunità di tre sorelle, che qui oltretutto a quello che è il ministero in una vita di parrocchia, quindi dalla catechesi al servizio dei malati, alla cura delle liturgie, del decoro della Chiesa, c'è anche l'accoglienza per il santuario del Sacro Cuore che va a iniziare il suo cammino. Accoglienza che riguarda soprattutto le persone che passano lungo la giornata o i gruppi che arrivano, una presenza discreta però attenta, vigile, che sa orientare o possa orientare le persone sia nella preghiera come anche nel capire il santuario stesso e anche nel ritrovare la grazia di Dio attraverso il sacramento. La presenza sempre delle suore è importante perché le donne hanno questo senso di femminilità, di delicatezza, di gentilezza che le rende più capaci di accogliere le persone anche le più diverse.